Cari cittadini, buonasera. Mi trovo all'interno dei locali della COC con la protezione civile per aggiornarvi sugli ultimi eventi che si sono verificati all'interno del nostro comune. Purtroppo devo comunicarvi che questa mattina ci è stato segnalato un nuovo caso di positività per cui in totale ad Orte abbiamo nuovi cittadini che sono positivi a Codimid e l'unica cosa che un po' ci tranquillizza è che il contesto in cui si è verificato è un contesto già monitorato dalla ASRE che in qualche modo non è un nuovo focolaio di contagio. Ovviamente auguriamo al nostro concittadino ogni augurio di pronta guarigione ribadendo che la nostra comunità comunque gli è vicino e abbiamo le strutture per poterlo supportare ed aiutare in tutte le sue situazioni di necessità. Accanto a questo però c'è un altro elemento che in qualche modo è confortante perché abbiamo avuto dei dati statistici della ASRE stessa che Orte in proporzione al numero di abitanti ha una percettuale molto inferiore di contagi rispetto a quelle che sono la media provinciale nonostante il fatto che Orte sia un posto, un punto di passaggio, un luogo di transito e un luogo frequentato da diverse persone anche non residenti. Quindi ho ritenuto questa mattina di emettere un'ordinanza con la quale viene vietato l'accesso ai locali commerciali senza la mascherina. Pertanto da domani tutti coloro che si regaranno nei negozi autorizzati ad aperti dovranno utilizzare la mascherina. A tal fine ho dato a disposizione anche alla protezione civile di fornire ai locali commerciali delle mascherine che ci hanno dati in dotazione della regione per fare in modo che chiunque entri o per dimenticanza o per mancata conoscenza ancora delle prescrizioni che ci sono imposte indossi la mascherina per preservare la propria e le altre salute e che comunque facci in modo di non inquinare e contaminare anche le merci magari esposte all'interno dell'esercizio commerciale. E infine intendo informarvi sul fatto che per far fronte all'emergenza che ormai tanti cittadini reclamano riguardo alla carenza delle mascherine l'amministrazione è intenzionata a supportare l'iniziativa di alcune sarte volontari che so che già si stanno lavorando in questo bellissimo gesto di realizzarle per fornire alla cittadinanza e anche alla prologo la quale intende acquistare del materiale idoneo presso una ditta locale per poi appunto darle a queste volontarie al fine di realizzare questa volta però mascherine che siano riutilizzabili e rilavabili e fare in modo di dotarle nella misura di due unità per ogni momento familiare così facendo noi crediamo di aver tamponato questa situazione a breve e medio tempo sperando che poi l'emergenza finisca. Infine vi informo che stiamo procedendo al perfezionamento del leader amministrativo che ci consentirà di porrene essere in misura sperimentale l'iniziativa dei rapid test per fare già uno screening sulla parte più esposta della nostra popolazione a un pericolo di contagio ed avere un campione significativo della positività o della noicatività all'interno della nostra comunità che potrà essere anche come indice di riferimento per l'intera provincia. A breve vi aggiorneremo sull'inizio della sperimentazione. Buonasera a tutti.